in una giornata uggiosa durante il monitoraggio sul territorio quale sorpresa inaspettata ecco apparire una salamandra pezzata sembra ancora un po intorpedita dal freddo e pensare che il mondo antico la considerava capace di assorbire le fiamme nel fisiologo scritto fra il secondo e quarto secolo dopo cristo è infatti descritta così esiste un animale detto salamandra il fisiologo ha detto di essa che se entra in una fornace di fuoco ardente la fornace si spegne completamente e se entra nella sala di riscaldamento di un bagno si spegne anche questa oggi sappiamo che non è proprio così ma noi non la disturbiamo e la lasciamo andare per la sua via